E niente, sono appena stato in edicola e purtroppo Dragone Crone è uscito ancora Deve uscire il 9, però qua se non esce oggi, domani 8, il 9 è sabato, domenica, lunedì Io lo rivedo martedì, sta cosa con i colbonelli di inizia a essere brutta Veramente brutta, non c'era nemmeno Calia che oltretutto doveva uscire il giorno prima Quindi doveva uscire oggi e quindi niente, adesso andiamo in fumetteria Eccola qua, la mia fumetteria di fiducia, un video Allora, abbiamo recuperato la borsa del free comic, c'è anche un fumetto e poi ci sono altre cose da dire Quindi ci vediamo seduti alla scrivania E intanto bentornati, creditori, come state? Spero tutto bene, sono RoboDj, questa è storia dell'altra vita A cui parliamo di fumetti di cosa è nerd, così ce l'ho detto e non lo devo dire Oh, ed eccoci qua, siamo tornati a casa, accendiamo tutte le luci, mandiamo la sigla Ed è arrivata anche una bella sorpresa qua, direttamente allo studio E che cosa sarà mai? È una busta franco bollata a sabaudia, trovata alla cassetta delle poste, nella cassetta delle poste, pure vi ho avuto parecchio ultimamente Quindi, guardate, è ben trattata bene Però, di chi sarà? Di chi sarà? Che è riuscito a farmi arrivare una posta con intestato LucaDj? Voglio dire Chissà che ha pensato il postino, venite più vicino che parliamo un po' del postino e di che cosa avrà pensato il postino quando ha dovuto consegnare questa cosa al LucaDj Sarà un bambino, sarà un ragazzino, non lo so Più o meno sì, più o meno sì Ma chi è che me la manda? Non lo so, o meglio, lo so Ta-da Chi è che me la manda, ragazzi? Sergio Bonelli, editore SPA E come ogni editore che si rispetti fa un pacco a prova di bomba per mandarmi questa cosa Mamma, sanno gli auguri di Natale, quindi si accettano lo stesso La vogliamo aprire subito? No, la apriamo alla fine Ha 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 Perché? Perché abbiamo riportato il Free Comic Book Day E in c'è anche un solo volume, un manga che c'avevo in casella, uno ce n'era Ne è arrivato uno, io aspettavo anche tante altre cose Ma una cosa è arrivata, sapete che Dragone non l'ho trovato perché Ve l'ho detto live mentre andavamo in edicola Ma Ma però Ma però Ci sono un paio di cose interessanti che vi voglio mostrare lo stesso Mi sono arrivato in digitale So che a voi non piace leggere digitale Ma che vi frega, io vi devo parlare di cose interessanti Allora Ragazzi, mi è arrivato in digitale l'ultimo volume di Ciambara Di Recchioni e Accardi Gli uomini No Ciambara di uomini e orchi Devo dire che Ciambara Mi è sempre piaciuto Come racconto Ben strutturato Disegnato splendidamente tutte le volte E questo forse è disegnato anche meglio del solito Il che ce ne vuole è perché sono disegnati bene E soprattutto Da quello che racconta l'autore È proprio ripreso A livello di disegno A livello di ambientazione A livello di costumi Di usanze Di cerimoniale A quella che era A quello che era il Giappone feudale del tempo Io non me ne intendo tantissimo di Giappone Però ragazzi È veramente un bel Una bella lettura Avvincente da un certo punto di vista E soprattutto cruda Cruenta da altri punti di vista E ti fa scoprire un po' Quello che era poi il Giappone di quel tempo Interessante Certo È un bel cartonatone Grande formato Il solito cartonatone in bodelli Questo qua sono 113 pagine però ragazzi 100 compresa di copertina Costo 22 euro Bello cicciotto Può essere interessante Poi quando lo leggo Ve ne parlo meglio Ah Zombicide Black Plug Plague Non lo so come si dice Piaga Piaga nera La piaga nera di Zombicide Questo l'ho letto L'ho letto un po' di giorni fa Forse più di una settimana fa E Non me lo ricordo Benissimo Benissimo Per cui quando ne parliamo Singolarmente ve lo racconto meglio Comunque Costa 22 euro È un cartonato in grande formato Tutto a colori 147 pagine Ti porta nel mondo Della piaga nera di Zombicide Che è un mondo Alla D&D In cui appunto ci sono i non morti Che è la piaga La piaga nera È il primo Libro La prima avventura È scritta Il soggetto è di Vietti E preti Però la sceneggiatura è soltanto di Vietti I disegni sono dirizzato La copertina di Paul Bonner E la colorazione di Mattia Iacono E Paolo Francescutto Una storia Interessante Che ci porta in un mondo fantasy Sviluppato comunque sempre da Vietti Ma che si deve basare sul Gioco da tavolo Che è appunto Zombicide Nella versione della piaga nera Devo dire Mi ha divertito Mi ha divertito parecchio Mi sono ritrovato Appieno nel mondo di D&D Ed è un Uno sfondo Un paesaggio Un Una lettura Che Che mi piace E non era facile Perché Comunque personaggi non li conosco Al gioco non ho mai giocato Vietti Ha dovuto Presentare tutti quanti i personaggi del gioco O quantomeno Una parte dei personaggi del gioco Che sono caratteristici Quindi ha dovuti Far capire A un lettore come me Che legge fumetti Ma non gioca di ruolo Almeno a Zombicide E ha fatto veramente un gran bel lavoro Poi il resto lo fanno i disegni e i colori Con tavole in stile In stile alla francese Non all'americana Queste qua sono tavole in stile alla francese Molto Molto belle Molto ben studiate Devo dire Non gli si può dire nulla A questa cosa qua Se vi piace un buon racconto fantasy E Se avete A disposizione Credo che il prossimo uscirà fra 12 mesi Come è stato con l'altro Zombicide Quello invece scritto da Enoch Che è ambientato nel futuro Nella serie In Zombicide Invaders Nella serie futuristica Di Zombicide Lo potete fare tranquillamente 22 euro in un anno Non mi cambiano moltissimo Però il racconto è interessante Questo raga non l'ho nemmeno sfogliato Non l'ho nemmeno aperto Il Tax Magazine 8,90 euro Per il magazine Dei 75 anni In cui mi pare ci sono Due Due storie E infatti due storie La valle dell'ombra Di Boselli Con i disegni di Civitelli E Mastrantuono E Dotti Rubini Andreucci Bocci Villa Ok Adesso sono curioso E un pittore nel west Con una storia di Giusefredi Con i disegni di Ticci E il lettering di Monica Usler Adesso sono curioso Perché effettivamente L'avevo sottovalutato Sapete io Tex Lo leggo quando Un po' di tempo Ultimamente non riesco a leggere nulla Figuriamoci se riesco a leggere Tex E questo qui è un po' Lo speciale Volevo capire Se vi posso far vedere Qualche disegno Questa qua è la prima storia Appunto con Mazza Mazza quanta gente i disegni Chissà perché Adesso ha stuzzicato Ha stuzzicato La mia curiosità E poi Invece c'è L'altra storia Che è questa qui Si vede La stoffa vede tutta No vabbè L'altra storia Non riesco a trovare Però Dove sta Eccola qua Questa qui è l'altra storia Un pittone in west No civitelli Ticci Infatti non capivo Giuse Freddy Ticci Poi vediamo La leggeremo In questi giorni di pausa In questi giorni Che portano dall'immacolata Al sabato della domenica Vedremo di leggerla Azzella morta Ci ho fatto il video lungo Ci ho fatto anche il video breve Sapete che cosa Che cosa ne penso Il prossimo nuovo All'anatomia dell'anima Andate a vedere il video Per capire bene Che cos'è Ma vi voglio fare Soltanto una carrellata Di disegni Per capire che Dylan Dogg Ha cambiato veramente passo Poi mi è arrivato Hoot Il primo dei quattro volumi Cartonato Grande formato Sempre in bianco e nero A 22 euro 114 pagine Anzi no De meno De 114 Perché in questo caso Ci sono le due cover Questa qua In esclusiva Variante in esclusiva Versa shop Questa qua invece Quella normale Piace più la normale Che la variant Devo dire Paola Barbato E Corrado Roy Ancora non ho il piacere Di leggerlo Il Ah che bello Il progetto grafio L'immaginazione Di Roberto Di Roberto Banfi Molto Molto contento di questo Questa qui È una cosiddetta Director's cut Poi andremo a vedere Che cosa significa I disegni di Roy Sono immensi E devo dire la verità In questo tipo di volumi I disegni di Roy Escono completamente Fuori Ed è ancora più bello Il volume Rispetto a leggere Sul digitale A meno che non hai Un tablet da 13 pollici Perché effettivamente Io adesso Qui lo sto vedendo Sul mio schermo verticale Che è un 27 pollici In cui riesco a vedere La 4 pieno Ed è molto bello Ed è anche più grande Di quello che poi sarà il volume Però sull'e-pad Poi viene in 11 pollici È dannatamente piccolo Rispetto al piacere di vederlo Anche in carta E di sentirlo Sentire quella ruvidezza Della pagina Che fa tanto In un racconto Non so per voi Ma per me fa tanto Nonostante io Ami il digitale Dall'horror Si passa Al Fantasy Con il nuovo numero Di Calia L'era dei fondamenti Che non sono riuscito Ancora a leggere Ce l'ho da un paio di giorni Questa qui è la copertina Copertina dove Ancora una volta Non compare Calia Compare Lena Compare Tag Compare il nuovo personaggio Non mi ricordo come si chiama Il nuovo alchimista E nel cuore del Sarabri Ci spostiamo dalla capitale E andiamo nella capitale Dell'altro regno Dalla quale è originaria Appunto Lena Cercheremo di capire Che cosa Che cosa succede Che cosa non succede Il nuovo frontespizio Di Calia Un Di chi è il disegno Scusate Che non mi ricordo più Vabbè La storia di Cantone Lamberti I disegni sono di ronda Ne parleremo presto In un video dedicato Appunto A questo numero Perché Calia Ha bisogno Di un po' di tempo Per sì Per parlarne bene Non avrei potuto Parlarne Apriamo un po' Scavicchiamo Anzi vi faccio vedere Prima il volume Che mi è arrivato Ma mi è arrivato Mago soft e library Numero 7 Di Mitsu Izumi Un'uscita Un'uscita che è ripresa Con una certa regolarità Dopo uno stop Veramente durato Forse più di un anno Di uno dei Manga Che ho letto Veramente per primi Da quando Il canale L'ho letto Veramente prestissimo Un consiglio Di Max Dall'Oglio Un ottimo consiglio Un ottimo manga Disegnato splendidamente Con ritmi stupendi Un manga in cui si parla Dell'amore per i libri E della voglia Di tenerli Di conservarli Al meglio Un sacco di personaggi Particolari Decisamente Decisamente Un bel Un bel manga Io ho stoppato La lettura Al numero 5 Mi pare Perché poi Sono iniziato Di uscire lentissimamente E preferisco Recuperarmeli Con un po' più Di regolarità Leggermi Che ne so Un capitolo A settimana Proprio come fanno In Giappone E quantomeno Averci un minimo Di regolarità Appunto Nella lettura Andiamo a vedere Andiamo a vedere Andiamo a vedere Il free comic book day Vi ricordo Che il free comic book day È un evento Di panini Comics Star comics Saldapress E Sergio Benelli Editore Quest'anno Vediamo Hanno già presi due Vabbè Comunque Questo qui È panini comics Copio omaggio All'interno Un'anteprida Del nuovo capolavoro Di Libermeco Ho già Ho già trovato Quello che volevo Vedere In assoluto Più di tutto Mazzon Tomblin Libermeco Una nuova storia Credo che sarà Una storia horror Ma guardate che storia Ragazzi Che Che matita Sembra Sembra Vero Sembra Veramente Vero È una Delle storie Che più Volevo leggere Ve lo faccio Vedere Appunto Perché È veramente Figo Ah poi Qui c'è un po' Di pubblicità I fumetti Di cyberpunk Me li devo Procurare I fumetti Cyberpunk Perché mi sono Sempre piaciuti Ci sono Altre due fumetti Stranger Things Ah quelli con Dungeons and Dragons E poi Ambe the boys Eccetera Belle con le copertine Anche in variant Beh questo qua va Va a letto Bisogna vedere di che cosa parla Ho fatto un post Nel quale Vi dico chiaramente Su Instagram Anche qui su Sulla community Di youtube Di che cosa parlano I vari I vari Free comic book Che sono usciti Appunto per il Free comic book day In Italia Adesso Non mi state a dire Di che cosa parlo Perché mi ricordo Sinceramente Marvel Sempre per panini comics Voice Sapete benissimo Che Marvel Io non la seguo Per dissequamente Se non Per qualche bel recupero Di qualche storia importante Questa qui è una cosa Che non Non conosco assolutamente Ma Magari qualcuno di voi Nei commenti Mi può dire Se vale casomai La pena Iniziare questa Questa nuova run Questa nuova serie Non so quando Quando uscirà Poi Poi Che altro c'è Un po' Il bello del Free comic book day E' che appunto Ti dà La possibilità Di leggere Un po' di cose Che casomai Non avresti mai Pensato di Di aprire Eccone una Se la mia Idol preferita Arrivasse Al budokan Morirei Non ho idea Di che cosa sia Auri Hirao Ovviamente Un manga Un manga Di Saldapress Quindi Della nuova linea Manga di Saldapress Vedremo Vedremo Abbastanza strano Stravagante Poche pagine E Vediamo Che cos'è Poi Poi Questo Make the Exorcist Fall in love Ok Planet manga Di Aruma Di Aruma Arima Art Masuko Fukayama Un manga Strano Perché non è Di un unico Autore Però succede Prime pagine A colori E poi Un sacco Di fanservice Quindi sarà Uno show N Probabilmente Addirittura Arriva fino All'ultima Pagina Poi Andiamo Avanti Questo qui È Molto Poco Molte Poche Pagine Saldapress Damtem Damtem Hall Di Simon Spurrier Charlie Adler E Sophie Dogson Questo qua Sembra Un racconto Abbastanza Pesante Strane La costruzione Delle tavole È tutto così Tutto molto Orizzontale Poi Qui Cambia Belli Disegni Vedremo Anche questo qui Poi Mazzama Quanti ne so Quest'anno Doveno essere 12 o 13 Ah Quello di Topolino Che di solito Non si trova mai Questa volta Per fortuna Si trova Non so Per quale motivo Di solito Non si trova mai Che cos'è In anteprima Zio Paperone La lampada Bisestile E Topolino Fuori da radar Però quanto è bello Topolino Così grande Questa qua È una storia Di Marco Nucci Disegni di Federico Buttice E Stefano Intini È bello Quando è così È molto bello Invece Topolino Eccolo qua Topolino Fuori da radar Di Tito Faraci Disegni di Casti Poi Andiamo avanti Quanti ce ne stanno Oh Ammazza Night Terrors All'interno All'interno Un'anteprima Di Night Terrors Di Williamson Bacalo Porter Mendoza Mickey E Anderson Down Dissi Dissi Disegni come sempre Non so voi Ma io forse scatenerò una shitstorm Ma trovo i disegni della DC sempre molto intriganti e sempre o quasi un passo avanti rispetto a quelli della Marvel O almeno quasi No non è vero non è propriamente così ma ma spesso succede che i disegni i disegni di si mi affascinano di più rispetto a quelli della Marvel Poi non è mai il caso di generalizzare Oddio questo qua è proprio carta È proprio carta stile fumettone Dai dico la Astra Che è la parte di Star Comics Che pubblica Che pubblica Non i manga Bisogna di così ormai Sin City Di Frank Miller Questa qui è un'ottima lettura Di Frank Miller Sin City Ci hanno fatto anche un Un bel film E beh il racconto è quello che è Il racconto è decisamente importante e potente Poi Ce ne sono ancora parecchi ragazzi Kaiju Girl Caramelise Di Spica Ochi Di Star Comic È un manga Sempre Particolare Belli disegni Belli disegni Vedremo Non credo il mio genere Ma comunque una lettura gliela diamo Just Killing Di Astra Bevi l'acqua Gualtieri Puglia Ah questo qua è italiano Infatti mi sembravano alcuni personaggi di Bevi l'acqua Test di Bevi l'acqua e guardieri Disegni di Puglia Ma questi qua I disegni sono di Bevi l'acqua Bello Belli disegni Molto Particolare Ecco il Trumaulus Just Killing Sembra un gioco Un gioco mortale Interessante Si farà leggere Ancora uno Ah Cruci Six Di Shiruyu Nakatake Vedremo anche questo Un manga anche lui Star Comics Star Comics ha partecipato con un sacco di cose È stato in mazza Ragazzi Che belle le tavole così grosse dei manga però Veramente molto belle si riescono a leggere anche le scritte pensate un po' Che figata Ultimo No Sì l'ultimo L'ultimo Sì E allora per ultimo No ma non ci credo Ma era veramente l'ultimo Ce ne manca uno Non ho controllato perché me l'hanno messi da parte Non ho controllato ma ovviamente ci manca Gea Poi diamo una ricontrollata ma ci manca Quello che volevo vedere ci manca Vabbè Mariage Toxin Di Star Comics Storia di Yumiaku Disegni di Mizuki Yoda Wow Bello intenso Molto intenso Anche troppo Lo leggeremo Anche questo qui No non c'è più niente veramente Ci manca proprio Ci manca il free comic book Della ristampa di Gea Che io volevo vedere Il capolavoro si può dire Di Luca Enoch Disegni e testi Luca Enoch Che verrà ristampato Probabilmente in formato cartonato Da O addirittura in formato manga Potrebbe essere ristampato Perché no Da Bonelli Forse in formato manga Nel formato di Attica Potrebbe essere ristampato Da Bonelli Lo volevo vedere un attimo Più o meno come Come potrebbe essere Non il Il fumetto Che bene o male conosco Mai letto Ma che bene o male conosco Ora Siccome siete stati qua Per un sacco di tempo Un sacco di minuti Ci godiamo Gli auguri di Natale Di Sergio Bonelli Editore E chi è che può fare Gli auguri di Natale Meglio di Sergio Bonelli Editore Ma che ne so io Vediamo un po' Sicuramente una cartonina Natalizia Voglio dire che vuole essere Con questa confezione Un po' così Che cosa potrà mai essere Con questa confezione Un po' così Sono degli auguri di Natale Solo quelli possono essere Scusate Si è Attaccato tutto Mannaggia Si è stropicciata Altrimenti Come Augurio di Natale L'avrei L'avrei Esposto lì Adesso devo Stirarlo un po' Ma ripeto È un bigliettino d'auguri Che cosa ti aspetti E invece no Non è Un bigliettino d'auguri È una cosa Per la quale Mi sono lamentato Più di una volta È un bel disegno Di Luca Enoch Una stampa Questa ha preso acqua Purtroppo È proprio una stampa Neanche Neanche No Neanche queste Sono autografe Quindi è proprio una stampa Anche le firme Sono stampate Probabilmente Luca Avrà fatto un disegno L'ha scannerizzato E poi gliel'hanno stampato così Oltretutto stampato Con tutto quanto Il bordino Vabbè Va bene così Scusate ma Sono abbastanza Arrabbiato Per questa cosa In questo momento Quindi Rischio di dire cose Delle quali potrei pentirmi Ma In realtà Questa qui È una stampa data Come omaggio Agli acquirenti Della Founder Edition Del videogioco di Drago Nero Prima di Luca Durante la spedizione Dell'edizione fisica Della Founder Edition L'hanno inserita All'interno Della confezione No Della confezione L'hanno inserita All'interno del pacco Spedito Insieme alla confezione Della Founder Edition Del videogioco E l'hanno ricevuta Appunto Quelli che avevano scelto L'edizione fisica Del gioco Quindi con Altre cosettine C'era una scatola Ne abbiamo parlato Più di una volta Andate a vedere I video che ci sono In merito Io era un po' di tempo Che gli stavo dietro Per dirgli Vabbè L'avete mandata prima a loro Non so per quale motivo Ma a noi Che abbiamo comprato L'edizione digitale Nella Founder Edition Quindi abbiamo partecipato A tutta quanta La fase di debug Del gioco Che ancora oggi Sta andando Ancora oggi Sta andando avanti La fase di debug Calcolate che il gioco È uscito subito Dopo la lucca Dell'anno scorso Non di quest'anno Del 2022 E noi abbiamo acquistato La copia Credo I primi di novembre Dell'anno scorso Quindi dopo 12 mesi Ancora in fase di debug Ma a parte quello Ci hanno mandato Appunto Questa Questa stampa Che è un modo Di chiedere scusa A tutti quanti Quelli che hanno Acquistato La Founder E che ancora Oggi Non riescano a vedere Una versione Definitiva E stabile Una 1.0 Possiamo Possiamo dire Io non so che dire Però si tiene in piedi Non gli serve nemmeno Un piedistallo Questo è un lato positivo Voglio vedere Il lato positivo Di questa cosa qui Si tiene in piedi Da sola Lascio a voi Nei commenti Descrivere questa cosa Ho perso le parole Eppure ce l'avevo qui Un attimo fa Ma su certe cose E' meglio Non di niente Il disegno è bello Però Bravo Luca Quello Quello bisogna dirlo E' un bel Jan Old style Uno Jan Che ancora Non aveva Neanche in volto Tutte quante Le Avventure Che Che ci sono state Quindi Questo qui Non è La cartolina Degli auguri di Natale Di Bonelli Che non mi farà Mai auguri di Natale Tramite cartolina Ma era Il modo Di chiedere scusa Di Sergio Bonelli Editore Per i tempi Di attesa Astronomici Di Del videogioco Di Dragonero Chiediamo qua il video Che è meglio Noi ci vediamo Ragazzi Domani Per il solito Prossimo video Fatemi sapere Qua sotto Nei commenti Che ne pensate Fatemi sapere Qua sotto Nei commenti Anche un'altra cosa Che cosa state leggendo Che cosa leggerete In questi tre giorni Di festa Se festa Se festa la fate Perché tanto Ormai Con il lavoro Liquido Diciamo Si lavora un po' Tutti i giorni Quando ho detto Buona festa A Angelo Il mio edicolante Mi ha detto Guarda Luca Qua tutti i giorni È un lunedì E io ho detto Angelo Te posso capire Ciao belli Ciao belli